La Camera respinge. 19.3, invito a ritiro a parere contrario, votazione aperta. Capito, collega. Ci sono colleghi che non riescono a votare? Onorevole Causi, Minardo, altri? Dichiaro chiusa la votazione. La Camera respinge. Onorevole Crippa, prego. Richiamo al regolamento, articolo 8. Presidente, il tempo che adesso perdiamo nel fare il richiamo al regolamento non l'avremmo perso se lei avesse rivocato la votazione. E pertanto nel momento in cui lei legge l'emendamento e dice se qualcuno è iscritto a parlare, se anziché guardare il foglio guarda attraverso i proponenti, presumibilmente poteva vedere il collegarlo. La ringrazio, 19.5, la ringrazio, la Presidenza è aiutata anche dagli assistenti che sono tra l'altro molto bravi e molto attenti. Se quando arrivano gli emendamenti i colleghi chiedono la parola, ora, l'onorevole, il collega che ha chiesto la parola, io avevo già aperto la votazione. 19.5, dichiaro aperta la votazione, c'è il parere contrario di Commissione e Governo. 19.5, dichiaro aperta la votazione, c'è il parere contrario di Commissione e Governo. Provi a votare, onorevole Daltieri. Altri? La votazione è chiusa. La Camera respinge, 19.6, parere contrario di Commissione e Governo. Votazione aperta. Onorevole Gallo.